Ben ritrovati, come è stato un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, Dream Dream suona il campanello perché questo mercato del Milan non decolla. Abbiamo un aggiornamento però per quanto riguarda Teo Hernandez, nelle scorse ore dall'America Furlani ha detto non abbiamo necessità di vendere, non è una notizia questo è risaputo, Milan potrebbe spendere anche 100 milioni di euro sul mercato senza cessioni, però ovviamente non lo fa. Ma la domanda è il futuro di Teo e di Menian? Ecco, trapela da casa Milan, l'ho scritto per primo CM, che il Milan è intenzionato a presentare a Chioni, il manager di Teo Hernandez, un'offerta per il rinnovo, finalmente dico dopo due mesi di stacco e di assenza. Un rinnovo che dovrebbe essere la proposta da 6 milioni di euro, lui attualmente ne prende 5 bonus compresi, più 500 mila euro di bonus, quindi per arrivare in totale a 6 milioni e mezzo. La sua richiesta, lo sappiamo, è 8. Vediamo che cosa succede, lui adesso è a meno di due anni dalla scadenza, la sensazione è che potrebbe rimanere anche senza rinnovo, a quel punto bisogna giocarsi la partita. Nel frattempo il Real Madrid non sta prendendo Alfonso Davis, che resta al Bayern Monaco, quindi il suo spostamento potrebbe essere tra un anno, e quindi per un anno forse stare tranquilli. Però se hai rinnovo o non hai rinnovo cambia tutto. Ripeto, lui prende 5 e il Milan offre 6 e mezzo. Offerta bonus compresi, offerta che sarebbe, porterebbe Teo Hernandez a essere il giocatore più pagato con Leao, ma più costoso perché Leao è il decreto crescita e Teo Hernandez no. A meno che, attenzione perché, è vero, c'è la questione che lui ha avuto il figlio, quindi potrebbe essere esteso il decreto crescita. Vediamo che cosa succede, se questa offerta veramente viene presentata, e se viene presentata in considerazione dal giocatore oppure no. Che è un po' più fuori dal radar mercato al momento, proprio perché non c'è il movimento Davis-Bayern Monaco al momento. Ditemi che ne pensate, se vi sembra un'offerta congrua. Intanto per me è una buona notizia sapere che qualcosa si sta muovendo rispetto al silenzio assordante degli ultimi due mesi sull'asse Milan-Teo Hernandez. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Ci vediamo qui tardi per altri aggiornamenti. Iscrivetevi, mi raccomando. Ciao!